legione ok io mi sento invece che è un mandriano hello hello there s'attaccamo? s'attaccamo certo il posto qua è un po' brutto mimmo tu dove sei? sono fermo in mezzo alla nappa come un coglione bravo no da qua è fastidioso perché a un lato ci sta quel barico di merda che non si vede un cazzo dietro che fa il fumo siamo un po' scoperti qua però vabbè sembra non venire nessuno abbiamo anche finito ci vuoi ammolzire ok e ce lo ammolzire vogliamo cambiare lato? eh sì perché oh ma sta stalkerando me in tutto questo bravo al centro della masca e ti vengo a cercare va ah ti ho visto ti ho visto no 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 io sto stavo finendo quel generatore vicino alla rusca questo è completato ho visto Michael Myers dove sta lo vedo eh fai in modo che lui non veda te sta seguendo qualcuno c'è qualcuno là no? si c'è chi è? no non è Mimmo è quell'altro è Alon è Alon che giustamente è Alon il generatore l'ha finita? non possiamo c'è Alon qua l'hai detto come se fosse un gelato il generatore quel gelato l'ha finita? è così no no fate un altro genere ragazzi qua c'è Alon salve minchios è la come sbagliare il gen live switch si abbiamo sbagliato un generatore siamo scesi a due spettatori e quello lo penso che sia George no ma lui non vi sta cercando ragazzi sta non si capace non si capace dove sia Alon ragazzi non riesce a trovarlo quindi continuate a fare il genere non vi preoccupate mi sa che ora ci vado di mezzo ragazzi sappiate che quell'uno quell'uno spettatore è Giorgio si infatti eccola qua appena scritto sono sempre qui state facendo il gen ragazzi si 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 stiamo facendo il gen Alon è in compagnia adesso Giorgio dice sto studiando e guardando la live nell'altanza ok siamo uscisi a 5 spettatori a 1 in 5 minuti siamo così antipatici no ma il punto è questo il punto è che io credo che questo qua ci abbia il la fase permanente del terzo stadio ora lo scopriremo infatti c'è oppure è molto scarso perché ci ha messo un sacco di tempo a passare alla terza fase davvero un sacco chi va a salvare Pancrazio? io sto qua io aspettiamo che passi la fase come avviamoci un gen nel frattempo dai ragazzi vedi che non passa eh ora si è messo sulla collina adesso al gen allo sciacchi se qualcuno vuole venire si è messo sulla collina e metto anch'io dentro lo sciacchi ah no aspetta io sono ok 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 t'ha posto dove a finire il generatore magari lui mi vede e mi insegue dai intanto faccio il generatore no è sceso dalla collina quindi non può vedermi sono a metà del gen vai vai salva Pancrazio vai sta seguendo me mi ha lasciato sta tornando ok l'importante è che non aveva la terza fase permanente e ti dà la finita generatore al 90% e non l'è ancora inseguito e mi si è messo davanti alla torcia non l'abbiamo accocchiato niente niente nè tu ho pure spregato il petardo eh vabbè Paolo Emilia ha fatto quella cosa e facesti tu tempo fa eh però io ci riuscì tu ci hai riuscito sì vabbè non fa niente cazzi di alone voglio dire però fa di gen nel frattempo io vado da alone non lo vado a salvare alone chiave viola ho trovato ah non si sa chi va a salvarlo? io e io ok c'è già lui ok mi raccomando state attenti non vengi eh mi devo mettere l'arma dietro ragazzi l'ha visto hello hello ah oddio io comunque ho messo l'empatia di modo che anche voi possiate un pochettino partecipare infatti adesso vedo Emilio lo vedo alone oh mamma mia ok è bella bella molto bella vabbè alone è morto Emilio lo andiamo a salvare dopo aspettiamo che lui se ne vada da là sennò è inutile andarla a salvare adesso eh ci possiamo vendire dopo scusa allora guarda abbiamo fatto quattro generatori perciò se salviamo Emilio e troviamo la botola ce ne scappiamo con la mia chiave attento attento ma perché ti devi far vedere non lo so mannaccia a te per... per allontanarlo dal... da qui di sotto no e non si allontana mica è scemo si che si allontan... si sta allontanando dai vieni qua vieni qua no 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 sta tornando indietro no no sta tornando indietro no no sta tornando indietro trova la botola così così ce ne andiamo no seconda pesce cerchiamo la botola va dove sei Mimmo ok l'ho trovata l'ho trovata sono... dov'è dov'è? ruspa ruspa grande la opposta all'altra ruspa ma quella rosa ha dello shock rispetto all'edificio centrale si ok ecco qua vieni 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 se mori noi scappiamo muoio ma perchè puoi stare la chiaia in viola si posso stare la chiaia in viola è bello che devo fa ah questo l'ha preso proprio dietro buonasera 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 eh fucking cunt bravo così ti devi chiamare così si chiama ragazzi fucking cunt